negli occhi ma chi è che usa i colpi del launcher razzi? oh cazzo dai vuoi dai cazzo cracato terra terra Mi segue, mi segue, sono sopra, uno è sopra Crackato uno Quanto non è? Uno è andato sotto, quello con lo skin di rosa, ecco qua Ecco qua, 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 ecco qua, ecco qua Ecco qua, ecco qua, ecco qua Ecco qua, ecco qua non trovarci mai più fatti tutti ho girato tantissimo che culo fatti non c'è ancora una mamma Giordano cominciamo a prenderci per aver scatturato controllo 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 stiamo troppo a domani eh papà puro papà ne restano solo cinque papà eh eh oh oh sarga qualcuno anche per me però oh oh giassi in arrivo zona sicura riposizione giassi in avvicinamento non morirà oh trovo la piazza ah le creo è bene 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 il chat 18 bombe 18 bombe ce ne sono tre qua davanti c'è un'altra chat per un altro ti prego vai grande a casa donna che giocata qua c'è gente qua davanti ti tiro uno stordente lancio uno stordente per uno cosa per un altro sta scappando uno luci spente si eh spine non è bene solo cinque finisce il lavoro Grazie a tutti.